Il Salone del Libro quest'anno ha rappresentato una vera e propria ripartenza per la città di Torino e per la regione Piemonte. La prima sensazione che ho provato è stata quella di gioia, perché ho visto le scolaresche percorrere i corridoi, ho sentito il vociare dei bambini e dei ragazzi in mezzo allo stand, quindi veramente un'occasione di ripartenza e di speranza per il futuro del nostro Piemonte. Mi ha fatto molto piacere che tra l'altro l'apertura del Salone del Libro di Torino sia stata dedicata alle radici di un'identità, cioè alla piemontesità. Abbiamo ripercorso le tradizioni, la lingua del nostro Piemonte in un contesto particolare che è quello rappresentato dai 50 anni della storia del Consiglio regionale. Quindi abbiamo unito idealmente la consegna del drappò che abbiamo fatto a tutti i sindaci piemontesi all'apertura del Salone del Libro e quindi alla ripartenza con un occhio alla cultura e con un occhio alle nostre radici senza le quali non può esserci futuro.